Alla presenza delle autorità cittadine è stata inaugurata ieri a Ribera all'interno della sala convegni del palazzo municipale la mostra ecologica realizzata dai bambini e dagli insegnanti della scuola dell'infanzia plesso centrale dell'istituto comprensivo Francesco Crispi guidato dal dirigente scolastico Emanuele Giordano. Si tratta del momento conclusivo del progetto didattico educativo denominato Un Paese Bellissimo portato avanti dall'istituto con l'obiettivo di guidare i bambini alla scoperta dell'ambiente che li circonda per sviluppare già dalla prima infanzia il senso di responsabilità individuale e collettiva verso il bene comune. Rispetto dell'ambiente che comporta quindi l'impegno a differenziare e riciclare i rifiuti ma l'obiettivo è stato anche quello di promuovere una pedagogia attiva che valorizzi l'esperienza l'esplorazione ed il rapporto con i coetanei con la natura con gli oggetti e con il territorio. Un progetto che ha coinvolto i bambini di tutte le sezioni della scuola dell'infanzia del plesso di piazza Giulio Cesare sia con esperienze collettive sia con esperienze specifiche all'interno delle singole sezioni tenendo sempre presente le varie proposte, le diverse età dei bambini e quindi le loro capacità. A conclusione delle attività è stata realizzata la mostra di abiti, oggetti, giochi ed altri lavori che hanno avuto come filo conduttore l'arte del riciclo. Oggetti trasformati in nuovi e sorprendenti manufatti in esposizione nella sala convegni insieme a dei cartelloni che documentano il viaggio attraverso la comprensione dell'importanza del riciclo per la salvaguardia del pianeta. Al pari di tutte le attività calate nel progetto anche la mostra che sarà possibile visitare anche nella giornata di oggi dalle 17.30 alle 19 è stata dunque un'esperienza educativa entusiasmante e coinvolgente per i bambini ma anche per tutti i docenti della scuola dell'infanzia.